I can't believe what I did for love Una puntata speciale questa nella quale torniamo a riaprire le porte della concessionaria Pavoni Auto per scoprire insieme il lusso, l'eleganza e ovviamente tutti i dettagli della nuova Volvo V90 Cross Country Ed ecco noi Zeman, allenatore del Pescara Calcio, non ha bisogno di presentazioni una partnership tra il Pescara Calcio, Volvo e Pavoni Auto Ecco, un saluto per i telespettatori di Rete 8 Motori Un saluto a tutti So much more than I can carry I can't what I did for love